La Fondazione Maria Carta di Siligo rende omaggio ai sardi nel mondo con una nuova e particolare versione di Non poto reposare, adiosa, incisa su un cd inviato gratuitamente ai circa 90 circoli degli emigrati sardi sparsi nel mondo. Nella nuova incisione discografica di quella che resta forse la più popolare ed amata canzone sarda sono stati coinvolti artisti di diversa estrazione stilistica che nel solco della tradizione propongono un'affascinante ed appassionata rilettura di Non poto reposare frutto di un arrangiamento curato dal duo Fanta Folk composto da Vanni Masala all'Organetto e da Andrea Pisu alle Launeddas. Con loro hanno partecipato il trombettista Paolo Fresu, le cantanti Maria Giovanna Chierchi, Valeria Carboni, Beppe Dettori e l'arpista Raul Moretti, Luca Magia Voce dei Niera, il chitarrista Nilo e Mamutones e i Soadores della Proloco di Mamoiada. Tutto nel ricordo di Maria Carte e Andrea Parodi presenti nel progetto con alcuni estratti video tratti da una loro esibizione del 1993 a Cagliari. Questo omaggio ai sardi nel mondo è un'ulteriore conferma del forte rapporto che Maria ha sempre avuto con il mondo dell'immigrazione, ha detto il presidente della fondazione Leonardo Marras che nelle note di copertina ricorda che la prima incisione di Non poto reposare da parte di Maria Carta risale a lontano 1978 e compare nell'album Umbras e come il tocco magico dell'artista di Sirigo stava non solo nella sua straordinaria interpretazione ma anche nel suo impossessarsi sino in fondo delle emozioni di quel testo di Salvatore Sini inserendo in chiusura una strofa tutta sua. In questa elaborata confezione ricca di sfumature e inediti colori il motivo si conferma la canzone d'amore per eccellenza del patrimonio sardo capace di catturare l'ascolto e di suscitare un'immediata emozione collettiva come evidenzia Giacomo Serreli presidente del comitato scientifico della fondazione.